Batman e Tartarughe Ninja, terzo ed ultimo crossover edito questa volta in Italia da Panini Comics che ormai detiene i diritti editoriali italiani sia della DC Comics sia della IDW Wabalabadabab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Fumetti, nella rubrica DC Comics e nella rubrica Tartarughe Ninja questo è l'ultimo crossover, cartaceo o quantomeno, che Batman e le Tartarughe Ninja hanno insieme poi hanno fatto anche un film animato, magari ne parleremo insieme anche di quello perché comunque mescola un po' le carte in tavola, sì l'ho visto, finalmente l'ho visto devo dire che ha delle rare perle che potremmo commentare poi per il resto diciamo che resto sulla mia, resto sulla preferire la controparte fumettistica ma oggi ci concentriamo su questo terzo e ultimo crossover di cui io non sapevo nulla l'ho preso con molta hype, devo dire che anche gli altri due li ho riletti sia per fare i video ma anche per entrare meglio in questo volumetto e devo dire che questo volumetto mi ha fatto proprio cagare prima di cominciare se ancora non l'avete fatto richiedo di iscrivervi al mio canale di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che fanno parte di Amalgam e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo video, di questo numero seguitemi anche sugli altri miei social tra cui Instagram e Twitch vado da rimanere aggiornati su Instagram di quello che potrei fare anche su Twitch facciamo una piccola premessa sui miei personali gusti a livello di fumetti innanzitutto vabbè io amo di più le storie urban rispetto alle storie ambientate nello spazio ambientate nella fantascienza vera e propria, questo anche a livello cinematografico ed è penso anche per questo che io ho preferito a una seconda rilettura soprattutto ho preferito il secondo volume rispetto al primo ma posso anche, anzi soprattutto ormai va di moda, concepire il concetto di multiverso e di viaggi interdimensionali come abbiamo visto in entrambi i numeri, abbiamo visto le tartarughe ninja che viaggiano nella Gotham City di Batman e abbiamo visto Batman che viaggia nella New York delle tartarughe ninja, al cinema ha sfondato prima ancora di Spider-Man No Way Home Spider-Man Into the Spider-Verse quindi ormai siamo abituati all'idea di personaggi di universi differenti che possono collaborare insieme quello che invece a me ha sempre fatto schifo perché fondamentalmente ci mostrano le gesta di personaggi che noi non conosciamo e a cui noi non siamo affezionati e ci dobbiamo affezionare per forza perché la storia parla di quello è Amalgam Amalgam è un'idea che hanno avuto qualche anno fa la DC Comics e la Marvel creando una sorta di mondo dove i propri supereroi fossero fusi assieme e così Captain America era fuso insieme a Superman creando una sorta di ibrido, Batman era fuso con Wolverine creando una sorta di ibrido, Tempesta con Wonder Woman cioè una roba del genere, una roba orrenda i Fantastici 4 ricordo che avevano tipo delle tutine viola e non mi ricordo bene con cosa erano fusi fatto sta che lo stesso concetto di vedere supereroi non collaborare insieme ma uniti fusi in un unico corpo creando un nuovo personaggio di cui fondamentalmente non frega nessuno per me è un'idea assolutamente non vincente purtroppo quello che succede in questo numero è proprio questo dal punto di vista editoriale ci può anche stare perché dici cosa cavolo facciamo dopo aver fatto un primo incontro in uno dei due universi un secondo incontro in un altro universo ovviamente nel mondo della DC Comics una delle minacce più grosse sono le crisi, le famose crisi sulle terre infinite crisi infinita dove appunto viene riscritto viene in un certo senso un pochino retconnata la continuity della DC Comics ma crea anche questa crisi crea appunto una preoccupazione notevole perché appunto in crisi sulle terre infinite il primo mega crossover in casa DC Comics cancellava proprio tutte le altre terre lo abbiamo anche visto nello special della CW fondamentalmente tutte le terre diverse sono state confluite in un'unica terra ciò nonostante i personaggi non sono mai stati fusi assieme se ne è tenuto uno piuttosto che un altro questo proprio perché non avrebbe senso creare un personaggio a cui il pubblico non è affezionato e quindi anche in questo terzo volumetto delle Tartaruga Ninja i nostri eroi devono affrontare una crisi peccato che noi vediamo questa crisi già bella che conclusa noi vediamo il nemico che ha già vinto una sorta di Krang fuso con l'Antimonitor perché si vede palesemente che è Krang un Krang enorme all'interno del corpo robotico di Krang ma con i colori dell'Antimonitor che per fare in modo di riuscire a vincere le sue battaglie contro le Tartaruga Ninja decide di creare un mondo ad hoc dove lui incondizionatamente è destinato a vincere questo mondo prende le due terre d'origine che questo concetto mi è piaciuto molto che ogni multiverso poi ci arriviamo a che ogni multiverso abbia una sorta di terra primaria da cui nasce tutto ovviamente la terra primaria delle Tartaruga Ninja da cui nasce tutto sono i fumetti di Kevin Eastman e Patrick Leird sono ovviamente quelli in bianco e nero e mi fa molto piacere vedere che qua c'è una collaborazione anche proprio con Eastman in cui vengono le Tartaruga viene Raffaello prima e poi tutte le altre Tartarughe Ninja dall'universo primario diciamo dalla terra primaria delle Tartarughe Ninja e poi ovviamente la terra primaria di Batman è i fumetti di Batman degli anni 40 anche se gli hanno dato un look un pochino più anni 70 quello che però noi vediamo è la fusione di queste due terre già in atto quindi noi iniziamo a sfogliare questo albo della Panini che finalmente rispetto all'RW Lion ci fa comunque un'introduzione e ci spiega un attimino che cavolo andiamo a leggere e quindi già siamo un pochino avvertiti di questa cosa e praticamente siamo all'interno di New Gotham City un mix tra New York e Gotham City vediamo questa sorta di Batman che sembra il Batman Ninja del film su Netflix e scopriamo che tutti i personaggi sono stati amalgamati quindi Harley Quinn onestamente non so con chi è stata amalgamata ma sicuramente Bebop e Rocksteady sono fusi con Killer Croc e Clayface dopodiché abbiamo questo palese Joker che è fuso con Shredder abbiamo tutti i sidekick di Batman che non sono Nightwing, Robin, Cappuccio Rosso, Batgirl, Red Robin ma sono le tartarughe ninja e abbiamo un Raffaello palesemente Cappuccio Rosso un Donatello che indossa un mix di colori e di cinture che può unire Tim Drake e Batgirl che sono fondamentalmente i cervelloni della Batfamily poi vediamo Michelangelo che indossa palesemente i colori di Damian Wayne e infine Leonardo che indossa i colori di Nightwing e ci sta devo dire tantissimo sia come caratteri e sia come età non che le tartarughe ninja siano uno più grande dell'altro però si evince che Leonardo è un po' più responsabile poi c'è Donatello, poi Raffaello che è quello un po' ribelle poi c'è Michelangelo che è quello un po' più piccolo come se non bastasse tenetevi forte perché qui partono i porconi non c'è Alfred ma il maestro Splinter è fondamentalmente diventato il padre putativo sia delle tartarughe ninja sia di Batman e questa è una cosa anche molto bella non mi spiego assolutamente però perché debba essere vestito da maggiordomo fortunatamente questo scempio agli occhi per quanto riguarda la narrazione poi come puri disegni sono sempre tavole spettacolari però questo scempio agli occhi dura pochissimo finalmente fa irruzione la tartaruga ninja originale che spiega la situazione spiega a questi personaggi che loro stanno vivendo una realtà fittizia creata da un essere interdimensionale e devo dire ci sta perfettamente perché Krang è un essere interdimensionale lo stesso Krang viene dalla dimensione X lo stesso primo crossover è nato dal fatto che Krang ha teletrasportato fuori dalle balle Shredder e le tartarughe ninja in uno scontro a tre quindi ci sta tantissimo che Krang sia in un certo senso l'antimonitor così come ci sta tantissimo l'idea che stavo dicendo prima delle terre primarie qua è forse una delle poche volte che vedo usato correttamente il termine multiversi al plurale perché nella Marvel per esempio nella DC Comics ci può anche stare ma nella Marvel non ci sono i multiversi ci sono gli universi o c'è il multiverso perché chiaramente tutte le realtà tutti gli universi fanno parte di un multiverso qua invece Krang ci tiene proprio a spiegare che ci sono i multiversi ovvero il multiverso delle tartarughe ninja dove ci sono diverse versioni diverse varianti ecco se vogliamo usare un termine alla Loki diverse varianti delle tartarughe ninja e poi c'è il multiverso di Batman dove ci sono le varie varianti di Batman il Batman di Keaton il Batman di Pattinson il Batman dei fumetti questo Batman amalgamato vengono tutti da una terra primaria la terra primaria di Batman è quella dei fumetti ovviamente degli anni 40 mi piace che abbiano usato e spiegato molto molto bene questo concetto anche per fare in modo che hanno mostrato come Krang si è dovuto andare a cercare la terra primaria di questi due multiversi per creare un suo nuovo universo che poi appunto può sfociare in un altro multiverso amalgamato spero di no ovviamente però ecco è spiegato molto bene qua vi mostro anche Krang che è fuso diciamo è inserito nel corpo robotico che richiama l'estetica dell'antimonitor di crisi sulle terre infinite qua va a pescare un Batman praticamente molto cartunesco molto anni 70 sarebbe stato più coerente pescare il Batman quello degli anni 40 con le orecchie un po' storte con i guanti viola però vabbè ci stanno preso un'icona di Batman non mancano nemmeno April O'Neil che è comunque una stagista una scienziata che non conosce le tartarughe ninja e nel momento in cui iniziano a scardinare appunto le basi di questo universo le varie persone coinvolte iniziano a ricordare April O'Neil non è mai stata disegnata così bene è adorabile è disegnata da Dio e non manca nemmeno Casey Jones che in questo universo amalgamato è un poliziotto è un poliziotto molto onesto mi ha ricordato sia il poliziotto Blake del Cavaliere Oscuro in Ritorno ma anche il fatto che Casey Jones sia stato un poliziotto in tartarughe ninja fuori dall'ombra del 2016 non che ami quel film però apprezzo la citazione non si capisce dove siano Shredder e altre persone che non sono amalgamate anche qua non si capisce bene perché alcuni personaggi siano amalgamati e gli altri no però fatto sta che Shredder è da qualche parte ad allenarsi senza motivo e Batman e le tartarughe ninja in questo caso lo reclutano per fargli ricordare chi è e fargli prendere il controllo del clan del piede in modo che Shredder in un certo senso fa un'alleanza di comodo con i nostri eroi per spodestare il Joker il Joker invece è in combutta con Krang e gli dice Krang lo informa del fatto che queste creature stanno per sovverchiare il suo mondo e gli dà delle dritte sulle persone da cercare per distruggerle infatti cercava Casey Jones cercava April O'Neill ma è sempre stato fermato Casey Jones nel momento in cui April gli dona la sua sacca piena di armi si ricorda la sua vera identità una delle tavole più belle è Casey Jones che entra spaccando tutto e urlando la sua catchphrase sgungala è stupendo fortunatamente appunto da metà in poi quando tutte le persone iniziano a risvegliarsi da questo sonno multiversale la narrazione è molto interessante però devo dire a parer mio per il mio gusto personale perché appunto io non amo queste cose strambe non riesco ad affezionarmi velocemente a dei nuovi personaggi purtroppo sono fatto così e proprio per questo io credo che dei tre questo sia il numero più debole nonostante sia il numero che mette in come si dice che mette in cantiere più carne al fuoco degli altri due quindi sia il numero che dovrebbe essere il più forte dal punto di vista della spettacolarità è quello che a me ha colpito di meno ciò nonostante sono ben conscio che i miei gusti non sono quelli di tutti quindi vi consiglio caldamente di leggerlo e di dirmi la vostra opinione qua sotto nei commenti io come sempre vi aspetto nei commenti come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi dico arrivederci al prossimo video